Salve a tutti, ben trovati qui in piscina con me e con Norma Jane, i suoi fragment, raccolta di documenti straordinari in questa opera, straordinari le fotografie, straordinari gli appunti dei suoi diari e ancora più straordinarie, veramente capolavori, le sue poesie. E qui per unire l'utile con il dilettevole, la piscina, il sole, la cultura, la bellezza e cosa sia l'utile e il dilettevole, per me in questo momento lascio a voi deciderlo. Però una cosa che ho deciso io invece, e non in questo momento ma durante la preparazione di questo video, mentre già leggevo questo libro straordinario, è che non avrei mai portato qui, assieme a voi, Marilyn. La spensierata, spumeggiante, radiosa, oca giuliva, non c'è, non c'è. Se la volete trovare avete tutti i film, gli uomini preferiscono le bionde, la moglie, quando la moglie è in vacanza e così via. Qui conosciamo invece il volto malinconico di Norma Jane, perfezionista, ossessiva e in cerca di verità assolute, nel lavoro, negli amori, nelle amicizie. E nella prefazione di Antonio Tabucchi, proprio lui si richiama la paragona a una farfalla, a una nuvola. E qui abbiamo proprio la farfalla nuvola, con gli occhi socchiusi, che in questa meravigliosa foto già ci dice tutto. Tutto del potere evocativo, della leggerezza a cui lei in qualche modo aspira sempre, non cessa mai di voler tendere. E prima che i latini inventassero la parola imago, i greci antichi usavano la parola fantasma, che significa immagine. E Marilyn sta guardando il suo fantasma da dentro, con lo sguardo colmo di desiderio di distaccarsi da se stessa. Proviamo anche noi ad accompagnarla in questo viaggio all'interno di questa vita, questa vita corporea, questo corpo, questa fisicità colma di carnalità, di carnalità anche gioiosa, di desiderio di essere madre, di forme prosperose. E con sempre però uno sguardo a un doppio heidolon, fatto d'aria, sogna di essere nuvola, farfalla, di vaporizzarsi. Tabucchi scrive che se tutti hanno avuto il desiderio di trascorrere una notte con lei, rimane impossibile, impossibile, togliergli la guaina di protezione, di quello Chanel numero 5. Lei nuda e nello stesso tempo, al contempo vestita di questa lingerie platonica, come la chiama Tabucchi sapientemente. E quindi una donna che ha offerto il suo corpo a tutti gli sguardi, alla fotografia, ma la trasparenza del corpo viene difesa. La purezza della donna che ritroviamo in queste poesie, di quel fantasma, di quel heidolon, di quella farfalla, che se venisse stretta tra le dita, le ali perderebbero quella polvere magica e non potrebbe più volare. E quindi che poi sia riuscita a distaccarsi, quello non è dato saperlo. Ma al mondo ha dato, ha donato questo volto bellissimo, queste forme procaci, che anche l'arte di Andy Warhol, per esempio, da fuori serie, la fece seriale. E oggi abbiamo invece però il privilegio, grazie al ritrovamento di queste testimonianze nel 2007, quindi in un tempo relativamente recente, da parte di Anna Stransberg, vedova di Lee Stransberg, cui vennero lasciati gli effetti personali di lei, di Norma Jane. Abbiamo questi testi che sono sistemati in ordine cronologico e sono, proprio svelano l'intimità, un'intimità senza esibizionismi e non sottraggono comunque, non preoccupatevi, al mistero di Marilyn, della sua vita, della sua morte, della sua anima. rendono questo mistero invece più concreto e rivelano un'anima di poeta ed intellettuale straordinarie. Capiva e sentiva troppo. Emerge sempre questa ricerca di senso razionale, di intellettuale, che cerca di capire la realtà che la circonda. Lei possedeva 450 libri, li portava con sé, li metteva dentro le valigie e in molte foto c'è testimonianza che lei leggesse. Lei, l'occa giuliva, lei con quei risolini, lei con quel fare di donna carnale, leggera, e al tempo stesso seduttiva, bambina. Lei che legge Harry James, lei che legge Joyce, lei che legge Schopenhauer, e con quella curiosità sempre bambina, meno male che non perde. E che senso ha essere mito? Lei ne era in qualche modo consapevole di esercitare questo fascino, almeno così appare. Questo libro vuole essere l'altra faccia della luna, mostra un'anima candida dall'energia incredibile che si guarda dentro in modo davvero onesto, davvero onesto, si invidia, quasi quanto sia stata onesta e non perde in purezza. Sibilla di se stessa, anche se giovanissima. Per una come me, dice, l'autanalisi non è una buona idea. La uso già abbastanza quando penso in generale. Non è tanto divertente conoscersi troppo o pensare di conoscersi. Tutti hanno bisogno di un po' di vanità per accettare e superare le cadute. Arthur Miller ci rivela che per sopravvivere avrebbe dovuto essere più cinica. Arthur Miller, suo marito, uno dei mariti avuti, e doveva essere più cinica o quantomeno più realista. Invece era un'anima di poeta che all'angolo della strada cercava di recitare i suoi versi a una folla desiderosa solo di strapparla ai vestiti. Questo, dice suo marito, il commediografo, scrittore Arthur Miller. Allora, leggiamo, leggiamo quello che la sua anima nuda urla o sussurra. Vita, ho in me entrambe le tue direzioni, restando come appesa l'ingiù, più spesso, ma forte come la terra di uranio al vento, esisto di più nella fredda brina scintillante. Ma i miei raggi perlati hanno i colori che ho visto in un quadro. Ah, vita, ti hanno imbrogliata. E una cosa curiosa che voglio mostrarvi, al di là dei miei coricini, sono le sue barre, ciò che lei ritiene dover omettere, le correzioni che qui vengono mantenute e che sono preziose quanto quello che viene mantenuto, anche quello che lei vorrebbe far scomparire. Oddio, vorrei essere morta, assolutamente inesistente, scomparsa da qui, da ogni posto, ma come? Ci sono sempre i ponti, il ponte di Brooklyn, ma amo quel ponte. Da lì tutto è bello e l'aria è così pulita, mentre cammini c'è calma, anche con tutte le macchine che passano impazzite di sotto, quindi ci vorrebbe un altro ponte, uno brutto e senza panorama, solo che mi piacciono tutti i ponti in particolare. Ah, no, non so che, e poi non ho mai visto un ponte brutto. Pietre sulla passeggiata di tutti i colori che esistono, abbasso lo sguardo su di voi, come su un orizzonte, lo spazio, l'aria, tra noi chiama, io sono molti piani, più in su, i miei piedi spaventati, mentre mi muovo ad afferrarvi. Solo parti di noi potranno mai toccare parti di altri. La nostra verità è solo questo in realtà, la nostra verità. Possiamo condividere soltanto la parte che è nei limiti accettabili della consapevolezza di un altro. Quindi siamo per la maggior parte soli. Come stabilito evidentemente in natura, nella migliore delle ipotesi, potrà forse spingere la nostra comprensione a scovare la solitudine altrui. E quindi vedete che lei nel rapportarsi con gli altri, nel rapportarsi con se stessa, sottolinea, mette in luce, in modo lucido, in modo consapevole, in modo razionale e sincero, questa solitudine, questo punto di incontro che però non può essere mai totale, mai vissuto come avrebbe voluto. Perché lei voleva essere amata, voleva stringere legami, comunicare, essere apprezzata davvero, come tutti noi. Ma forse lei, avendo il peso poi del dolore da controbilanciare, a queste che sono illusioni, illusioni, non ce l'ha fatta a reggerle, allungarsi, espansione, scrive, aprire liberi, tieni il palloncino e prova a non preoccuparti, osa lasciarti andare, così sciolta, poi riprendi, trova la tua voce, senso dell'umorismo, mantenere il riso dentro. rispetta la regola, per cominciare con un raggio, tensione, lascia andare gli occhi, così rilassata, lascia solo che il pensiero li attraversi, senza fargli niente. Qui si sente una risata interna che lei vorrebbe mantenere, un buon umore, una bellevolenza verso gli altri e verso se stessa, però è una donna in lotta, tormentata, troppo esigente, esigente con se stessa, non si perdonava nulla, niente le sfuggiva del suo essere, concentrata, studiosa, appunto come dicevo prima, lettrice, curiosa e però timorosa di essere scoperta balbuziente, afassica o come era probabilmente in gioventù, incapace di essere davvero vista, di essere vista oppure per essere poi derisa, la paura di essere derisa, umiliata, fraintesa, che è una paura che probabilmente abbiamo un po' tutti noi, ma lei la sentiva, la riconosceva, la esprimeva, voleva recitare senza preoccuparsi, voleva lasciarsi andare, chiudere gli occhi, essere libera e volare come palloncino, lei, la storia di tutti gli uomini e di tutte le donne che vogliono affermarsi, essere riconosciute, ma anche uomini costretti a indossare le loro maschere e a dover stare in vetrina, incapaci di rilassarsi, storie di voglia di affermazione, di accettazione, di approvazione e in realtà un tormento che rende insonne quando i riflettori si spengono nel buio della propria solitudine e quindi quanto è difficile, quanto è arduo, impossibile forse mostrarsi nudi al giudizio implacabile altrui, sotto gli sguardi insensibili, duri, desiderosi di fagocitare o di rigettare gli altri per affermare se stessi e lei, lei, adulta bambina, mi commuove e scrive proprio questo tieni il palloncino e prova a non preoccuparti e questo timor panico che la sale ogni volta che gira una scena in sicura cronica con questo terrore di deludere e i suoi versi davvero urlano, straziano, sola con uno, due, tre, cinque punti esclamativi, sono sola, sono sempre sola, comunque sia, l'unica cosa di cui aver paura è la paura in cosa credo cos'è la verità credo in me stessa anche nelle mie sensazioni più delicate e intangibili in fondo tutto è intangibile il mio fluido più prezioso non deve mai essere versato non versare il tuo fluido prezioso forza vitale sono tutte sensazioni che mi appartengono comunque sia la mia sensazione non si gonfia in parole e quindi vedete come non si risparmia come si guarda in faccia onesta troppo onesta non si lascia via di puga non si lascia doveva essere più cinica si mette lei stessa con le spalle al muro bambina non amata non vista senza padre e dalla madre pazza e paura di farmi dare le battute nuove scrive forse non riuscirò a impararle forse sbaglierò penseranno che non sono brava oppure rideranno di me e mi criticheranno penseranno che non so recitare le donne avevano un'espressione severa e critica ostile e fredda in generale paura che il registro pensi che non sono brava ripenso a quando non sapevo fare un accidenti di niente poi cerco di farmi coraggio dicendomi che ci sono cose che ho fatto giuste addirittura bene e ho avuto momenti straordinari ma le cose negative sono più pesanti da portare e da sentire non trovo sicurezza depressa pazza vedete come si mette in luce come si mette in gioco e nei suoi due quaderni neri proprio si concretizzano in modo tangibile la psiche il corpo l'analisi impietosa e anche il lavoro costante su se stessa sulla sua recitazione il corso il mimo ma proprio anche la ricerca di senso scavavo ragini però di insicurezza di insoddisfazione e posso aiutarmi e mi aiuterò e lavorerò sulle cose in modo analitico non importa quanto sia doloroso se dimentico l'inconscio vuole dimenticare io cercherò solo di ricordare disciplina concentrazione il mio corpo è il mio corpo tutto intero quindi desiderio di essere integra di essere integra di essere intera e si dà si dà questa disciplina vuole rimanere sempre costantemente in contatto con se stessa quindi non è loca giuliva non è quella donna spensierata sempre col sorriso sulle labbra pensate che sforzo per mantenere quella maschera per rendere contenti e gli altri Marilyn dalla spiritualità profonda quasi senza poter mai trovare pace senza davvero riuscire a trovare nel silenzio una quiete e quell'animo complesso rimane sempre sempre vittima di se stesso e ama la letteratura ama la filosofia la poesia simbolista ma questi questi luoghi questi altrove non la proteggono e lei ancora scrive quel fiume silenzioso e poi scrive e increspato ma lo cancella che si increspa e si gonfia qualsiasi cosa gli passi sopra vento pioggia grandi navi amo il fiume non resta e lo cancella mai impassibile a nulla ora c'è quiete la solitudine del silenzio tranne per il rombo tonante di cose sconosciute e di suoni aspri e per le grida penetranti tamburi in lontananza sempre presenti e i sussurri di cose poi all'improvviso soffocati in gemiti ben oltre la tristezza terrore ben oltre la paura il pianto di cose indistinte e troppo giovani per essere comprese i singhiozzi della vita stessa devi soffrire per perdere il tuo oro oscuro quando lo strato di foglie morte che ti ricopre uniforme ti abbandona forte e nuda devi essere viva quando guardi la morte dritta negli occhi anche se sei piegata dal vento e sopportare il dolore e la gioia del nuovo sulle tue membra solitudine si quieta vedete quanti tentativi attraverso proprio le parole che esprime che trova e che sono meravigliose quanti tentativi per arrivare a quella quieta a quel silenzio a quella pace perché vivo questo tormento si chiede mi sento un essere inferiore agli altri e tra parentesi è sempre stato così ho sempre sentito di essere sub umana senza pietà senza pietà verso se stessa a paura e ci svela un mondo ci fa dono di questa sincera paura accogliamola e proprio cercare un rifugio e quando era incinta era in uno stato di grazia forse non era più sola dice ho sempre avuto paura quando qualcuno mi elogia è anche peggio nel senso che mi fa venire un sacco di dubbi che sia tutto un caso addirittura che probabilmente non sia affatto merito mio tutti hanno dentro la violenza io sono violenta che donna questo volevo farvi conoscere che persona ammiro proprio questa sincerità questa forza nella sua debolezza il coraggio nella paura l'energia nello scoramento e perché sono le mie queste queste cose così bella e così disperata ancora infatti non lasciamola ancora dolce e incerta si difende coraggiosamente contro il vento tremando per tutto il tempo quelle foglie si rilasseranno si espanderanno al sole e resisteranno a ogni goccia di pioggia anche quando saranno peste e strappate credo di essere molto sola la mia mente vaga ora mi vedo nello specchio fronte aggrottata se mi avvicino vedo quello che non voglio sapere tensione tristezza delusione i miei occhi azzurri e cancella azzurri mantiene spenti le guance arrossate di capillari che sembrano fiumi su una cartina i capelli come serpenti la bocca è la cosa che mi rende più triste insieme agli occhi senza vita c'è una riga scura tra le labbra come il disegno di onde sollevate dal vento durante una tempesta burrascosa dice non baciarmi non ingannarmi sono una ballerina che non sa ballare dov'è quella bellezza? ce n'è un'altra qui un'altra diversa che si offre agli occhi che la vogliono vedere e io più osservo le sue foto più ne vengo rapita la amo mi spaventa la sento mi risuonano da dentro le sue parole più ci penso più mi rendo conto che non ci sono risposte dice la vita va vissuta e dato che è relativamente breve e la parentesi contiene queste due affermazioni contrarie e dubbiose forse troppo breve forse troppo lunghe separate da un trattino forse troppo breve trattino forse troppo lunga la vita l'unica cosa che so di certo è che non è facile i mostri l'inquietudine questa inquietudine costante che fa anche un po' sospirare nonostante sia qui in piscina in un luogo di relax per eccellenza e il lavare il lavare via il marcio tuffandomi nella piscina dal corpo da questo corpo che si mostra e l'anima l'anima torturata che ci dice da sola che amare con coraggio sia la cosa migliore e accettare tutto quello che si può sopportare ci dice grazie grazie Marilyn grazie Norma Jane grazie donna bionda sorridente tormentata in cerca di pace grazie per quei sorrisi per quel volto obbligato a essere gioioso nella tristezza solare nel buio di se stessi in questo donarsi continuamente priva di alcunché di umano vivo senziente e che cosa esce esce segatura così sottile scrive come una bambola di pezza e la segatura si sparge su tutto il pavimento e quindi vi lascio così con questa immagine molto potente molto forte molto dolorosa e ma per me spero anche per voi che ascoltate spero che leggerete questo straordinario documento questa segatura si trasforma in poesia perché come le farfalle la polvere della farfalla è diventata oro la prossima grazie a tutti grazie a tutti